Sanità, più case e ospedali di comunità. Consiglio regionale aperto su emergenza ecoclimatica. Assegnate le deleghe del nuovo ufficio di presidenza. Nuova edizione di Consiglio News. Bentrovati, più case e ospedali di comunità. Approvata la delibera sugli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Grazie al PNRR il Piemonte avrà una rete sanitaria territoriale più efficiente. L'Aula ha approvato a maggioranza la proposta di delibera sulla programmazione di case e ospedali di comunità e di centrali operative territoriali. Illustrando la proposta in Aula, l'assessore alla Sanità Luigi Icardi ha spiegato che il documento prevede la localizzazione di 91 case e 29 ospedali di comunità e 43 centrali operative territoriali per un investimento complessivo di 214 milioni di euro. Se noi riusciremo a dare una risposta adeguata sul territorio, certamente risolveremo anche il problema dell'intesamento di pronto soccorso e del boarding sulla pressione sugli ospedali che veramente in molti casi è impropria. Numerosi consiglieri di maggioranza e opposizione intervenuti nel dibattito in Aula. Tempi certi e risorse certe per far ripartire la medicina territoriale e un territorio che torni a essere centrale nella sanità pubblica della nostra regione. La crescita più importante è legata al metodo perché il PNRR è un piano che dovrebbe servire a ridisegnare il futuro della sanità in Piemonte, invece qui abbiamo un elenco di strutture per lo più esistenti deciso da pochissime persone, l'assessore e il direttore generale delle ASL. È mancata una progettazione partecipata. Emergenza ecoclimatica e riduzione delle emissioni al centro del Consiglio regionale aperto che si è tenuto lunedì. Emergenza ecoclimatica è obiettivo della riduzione delle emissioni clima alteranti entro il 2030. Questi i temi al centro del Consiglio regionale aperto a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, associazioni ambientaliste, atenei piemontesi, organizzazioni sindacali e di categoria. Un tema attuale e cruciale ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia. La regione, ha dichiarato Alberto Cirio, presidente della Giunta regionale, è fortemente consapevole che il cambiamento climatico sia una sfida di portata mondiale. Delle tante azioni messe in campo anche nei due anni di pandemia ha parlato Matteo Marnati, assessore regionale all'ambiente. Il piano rifiuti che spinge molto sull'economia circolare, il piano tutela delle acque per conoscere anche lo Stato e migliorare lo Stato di qualità delle nostre acque, che poi anche beviamo. Poi c'è il tema del piano energetico regionale che è in approvazione. Transizione verso le energie rinnovabili, riduzione degli sprechi e del consumo del suolo, mobilità sostenibile. Sono alcune delle linee d'azione suggerite dagli esponenti del mondo accademico e della ricerca dell'associazionismo ambientale delle organizzazioni sindacali e di categoria intervenuti durante il Consiglio aperto. A seguire il dibattito tra i gruppi consigliari. Piemonte si candida a diventare una delle capitali europee dell'idrogeno, su questo aspetto siamo molto avanti, si studiano i treni a idrogeno, però se vogliamo essere realisti dobbiamo sapere che il nuovo mercato energetico è la sfida. Si possono avere assolutamente le rinnovabili ma bisogna pensare anche al nucleare, il nucleare di nuova generazione. In questi due anni di lockdown in Piemonte è incrementato il consumo del suolo, anni in cui francamente tutta l'economia si è farmata e quindi questo è un dato a nostro avviso molto preoccupante. Il tema del cambiamento climatico è sicuramente l'attenzione di tutte le agende dei governi nazionali e internazionali. Si pone una questione che ci sono paesi, quelli magari più in via di sviluppo, che hanno ben a cuore e sanno benissimo l'urgenza e la necessità di intervenire. Assistiamo poi magari invece ai paesi che sono a oggi in forte espansione economica, che però producono ancora molta anidride carbonica, fanno ancora molto ricorso al carbone. Il Piemonte già fu unestato dai cambiamenti già in atto, io credo che noi dovremmo essere semplicemente conseguenti, far sì che ogni legge si ricordi che questa emergenza parte ovviamente dai nostri atteggiamenti. Siamo noi che abbiamo dopato la nostra atmosfera e siamo noi che dobbiamo in qualche modo ridurre le nostre emissioni. A completamento del Consiglio aperto sono stati approvati tre atti di indirizzo a firma Andrea Cane, Lega, Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia e Paolo Ruzzola, Forza Italia. E continuiamo a occuparci di ambiente con l'emergenza siccità che sta colpendo il Piemonte. Il mese di gennaio appena trascorso è stato il quarto gennaio più secco degli ultimi 65 anni e il secondo più caldo, con un'anomalia di temperatura compresa fra 1 e 3 gradi rispetto al clima del periodo 1991-2020. A causa del protrarsi dell'assenza di precipitazioni, il Piemonte deve fare i conti con una siccità diffusa su tutto il territorio regionale. Questi alcuni dei dati salienti illustrati dal direttore dell'ARPA, Angelo Robotto, audito in Commissione Ambiente, presieduta da Angelo Dago. Significativi i numeri emersi, le precipitazioni nel mese di gennaio 2022 ammontano a 4,8 mm medi su tutto il bacino piemontese, con un deficit tra il 90% e il 95%, mentre sono più di 70 i giorni trascorsi dall'ultima volta che la nostra regione ha visto cadere qualche millimetro in più di pioggia, ovvero l'8 dicembre 2021. Un altro dato importante riguarda le riserve di neve, ovvero la stima del quantitativo di acqua immagazzinato nel manto nevoso, che fa registrare un deficit di circa 64%. In chiusura di seduta, il Presidente Dago ha riconosciuto come le ripercussioni della siccità perdurante su agricoltura e ambiente dovranno essere affrontate a breve con gli assessori competenti per materia in una commissione congiunta. Dopo il rinnovo delle cariche dell'8 febbraio nell'ultima seduta dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sono state assegnate le deleghe a ciascun componente come previsto dall'articolo 9 del regolamento. L'organo di governo dell'Assemblea entra così nella piena funzionalità per la seconda parte di legislatura. Abbiamo necessità di avviare al più presto tutti i processi all'interno del Consiglio, perciò non ci sono stati indugi e si è proceduto a dare le deleghe ai consiglieri per il buon risultato del lavoro del Consiglio regionale. Per quanto riguarda gli organismi consultivi, i comitati e gli osservatori, al Presidente Stefano Allasia, la delega a Stati Generali per la Prevenzione e il Benessere, Consulta Femminile Regionale del Piemonte e Rapporti con la Presidenza, Consulta delle Lette del Piemonte, Comitato Regionale per i Diritti Umani e Civili, Comitato di Solidarietà della Regione Piemonte. Il Vicepresidente Francesco Graglia mantiene la delega alla Consulta Regionale Europea. Il Vicepresidente Daniele Valle assume la delega a Comitato Resistenza e Costituzione, Comitato Regionale per i Diritti Umani e Civili e Osservatorio Regionale sui Fenomeni di Usura, Estorsione e Sovraindebitamento. Il Consigliere Segretario Gianluca Gavazza è delegato a Consulta Femminile Regionale del Piemonte, Rapporti con la Presidenza, Osservatorio Regionale sui Fenomeni di Usura, Estorsione e Sovraindebitamento. Il Consigliere Segretario Ivano Martinetti assume la delega a Stati Generali per la Prevenzione e il Benessere Forum Regionale dei Giovani. Il Consigliere Segretario Michele Mosca mantiene la delega alla Consulta Regionale Europea. Donazioni di sangue a rischio per carenza di personale. L'assessore Luigi Cardi ha risposto al Question Time di Mauro Sarizzoni, Partito Democratico. Quali soluzioni la Giunta Regionale intende mettere in atto per risolvere le carenze di personale sanitario per la raccolta e trasfusione di sangue. Questo è l'interrogativo che il Consigliere PD Mauro Salizzoni ha rivolto nell'ambito del Question Time all'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi. Durante la pandemia il flusso di sangue è diminuito drasticamente, ma non per la riduzione delle donazioni, bensì per la minor disponibilità di personale. Il problema è noto, ha dichiarato Icardi, e riguarda non soltanto la rete di raccolta associativa, ma anche quella trasfusionale pubblica. è in fase di attivazione un progetto pilota che prevede diverse soluzioni al problema. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci!